Ho preso fuoco come un fazzoletto di carta, non ci credevamo. E lui è riuscito a scappare subito? Infortunatamente lui e il cane sì. Sono riusciti a mettere in salvo la ragazza, tutti e tre sono riusciti. Però non so altro. Si sentivano dei cani che abbaiavano, che raschiavano le porte perché volevano uscire, però non sono riuscita a fare niente. Poschetti, tu a che piano abitavi? No, mio fratello abita all'ottavo piano. Hanno aperto la finestra, hanno seguito tutta la nuvola di fumo. C'è un'idea di fumo. D'ora dove c'è lui e c'è lui. Oddio, chiami, chiami, venga qua, venga qua, chiami. Adesso è un busto. Ringrazio un amico. Ma non ti dà fuoco, intorno alle 17.30, Grazie a tutti